Simone Arasini ha vinto la squadra più forte? Sì, per due punti però è stata una grandissima campionata anche da parte nostra. Inter ha vinto, ha vinto anche Medica tra l'altro, è un dato di fatto purtroppo. Per rimpianto? Per rimpianto ce ne sono pochi, forse l'unico è quello con la partita con la Sampdoria, l'abbiamo fatta una grandissima partita ma purtroppo l'abbiamo persa, però quando insegui per sette mesi ci sta di incappare in un risultato negativo anche se poi la prestazione era stata positiva, quindi il rammarico è quello. Oggi avevate sperato nel miracolo di insegnarciare un risultato positivo nella Sampdoria? Certo ci speravamo, poi nello spogliatoio eravamo campioni d'Italia, è successo come due anni fa, poi Inter ha vinto la partita e bisogna battere le mani a questa grandissima squadra. E' un appuntamento rimandato, Simone, rimandato l'anno prossimo. Lo speriamo tutti, lo speriamo tutti, dobbiamo partire magari in modo diverso rispetto a quest'anno e vedere se riusciamo a ripetere quello che abbiamo fatto quest'anno e magari siamo in finale. C'è anche la Champions il prossimo anno, una Roma serve una Roma anche rinforzata. Ah perché così non va bene? Deluso però Simone è una da recriminare per la stazione. No, no. Non davanti.